Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 147 Durante il regime nazista, il campo di concentramento di Buchenwald fu luogo di grande sofferenza e morte per circa 56.000 persone. La colpa di queste persone era di essere cristiane, una minaccia per il nazismo e i suoi ideali. Uno dei blocchi del campo venne riservato ai prigionieri ritenuti più pericolosi o degni di nota. Paul Schneider, un pastore luterano conosciuto come il predicatore di Buchenwald, fu rinchiuso in questo blocco speciale perché dalla piccola finestra della sua cella non smetteva di annunciare ad alta voce il Vangelo di Gesù Cristo, sfidando così gli ordini delle guardie della Gestapo. Otto Noirura, un sacerdote cattolico, il cui lavoro a favore degli ebrei e dei cosiddetti indesiderabili lo avevano reso una minaccia per i signori della guerra nazista, fu anche lui rinchiuso in questo blocco. Da quel luogo servì nel nome di Gesù tutti i suoi compagni di prigionia fino al giorno in cui fu ucciso per crocifissione a testa in giù. Questi due uomini, uno cattolico e l'altro protestante, sono stati, e lo sono oggi, testimonianza dell'unico Signore Gesù Cristo. Un'immagine questa della forza dell'unità. Commento ai sapienziali Il popolo e la terra Davide riflette sulle vicende dell'Esodo, del monte Sinai e sulla conquista della terra di Canaan. Quegli avvenimenti furono tra i più salienti nella storia del popolo di Dio, in tempi in cui il popolo era veramente unito. Questo passo della Bibbia rivela pienamente quale sia la sorgente della benedizione data al popolo di Dio e della sua unità. Quella sorgente è Dio. Si tratta di un salmo di ringraziamento e di lode a Dio per tutto ciò che ha operato. Il salmo celebra la Signoria di Dio, la sua potenza e la sua sovrabbondante generosità, la sua giustizia e le sue vittorie. Dio guida il suo popolo nella terra promessa. Eppure oggi, proprio in quella stessa terra, l'unità del popolo è messa a dura prova. La ricerca della pace in Medio Oriente rimane una delle maggiori sfide nel mondo di oggi. Signore, grazie per il tuo amore verso tutti. Prego per la pace e l'unità nei paesi del Medio Oriente dilaniati dalla guerra. Grazie, perché sei sorgente e fondamento dell'unità. Commento al Nuovo Testamento La Chiesa e il mondo Nel Vangelo troviamo spesso accenni su come Gesù pregava. Ma per cosa Gesù pregava? Quali erano le sue priorità di preghiera? In questa grande preghiera di Gesù, poco prima di affrontare la croce, scopriamo le sue priorità nella preghiera. Gesù prega non solo per i Suoi discepoli, ma anche per quelli che crederanno in Lui in futuro. Prega anche per la Chiesa intera, e quindi anche per me e per te. In questa preghiera prevale il tema dell'unione. Gesù non prega soltanto per l'unità tra i Suoi discepoli, ma anche per la Chiesa. Prega per un'unità come quella che unisce la Trinità, perché siano una cosa sola, come noi. 1. Il motivo dell'unità è il grande mandato di Gesù Gesù prega per l'unità perché il mondo creda e conosca l'unità con Dio. La divisione nella Chiesa è uno dei più grandi ostacoli alla fede. In politica, ogni volta che un partito si divide, perde popolarità. Questo accade nel mondo laico e ancora di più nella Chiesa. Gesù dice che ha protetto i Suoi discepoli tenendoli al sicuro affinché siano una cosa sola. Ora prega che vengano custoditi dal maligno, il quale cercherà di dividerli. Quando le Chiese combattono tra loro, le persone perdono interesse. Viceversa, quando le Chiese lavorano unite, sono molto attraenti. È la fonte della gioia. I seguaci di Gesù non dovrebbero essere infelici. Gesù prega perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. La gioia viene dall'unità. La divisione è un ladro della gioia. L'unità è la forza. 2. La via dell'unità è lo Spirito Santo di Gesù. Gesù prega per la tua santità. Gesù recita «Consacrali nella verità». La tua parola è verità. Santità deriva da verità. La verità si trova nella parola di Dio. Ecco perché è così importante immergersi nella parola di Dio. La santità viene quando accogli l'unico Santo, lo Spirito di verità, che viene a dimorare dentro di te. Gesù prega «Perché sia in essi e io in loro». Questa è la più straordinaria verità del Nuovo Testamento, che Gesù viene a vivere in te attraverso lo Spirito Santo. Lo stesso Spirito vive in tutti i cristiani di qualsiasi chiesa o denominazione. Lo Spirito Santo ci unisce. 3. Simbolo dell'unità è l'amore di Gesù. Gesù prega «Perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro». Quale amore più grande puoi avere dell'amore che Dio Padre ha per Gesù suo Figlio? La preghiera di Gesù è per te. Prega perché tu abbia nel cuore lo stesso amore che Dio Padre ha per Gesù, per gli altri cristiani, per le altre parti del corpo di Cristo. 4. La misura dell'unità e la visibilità di Gesù A volte le persone parlano di unità invisibile, ma Gesù non prega per l'unità invisibile, né perché diventiamo quasi uniti. Prega affinché possiamo essere perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato. Vuole che la Chiesa sia completamente e visibilmente unita. Un giorno tutto questo avverrà. Nel frattempo, mentre costruiamo ponti, lavoriamo insieme e ci incontriamo con altri cristiani provenienti dalle diverse parti della Chiesa. Cuori e menti legate in comunione con Gesù in modo visibile come a Buchenwald. Segni visibili di una nostra unità invisibile. Signore, grazie per il modo attraverso il quale lo Spirito Santo ci avvicina agli uni agli altri. fa che possiamo vedere segni crescenti di unità visibile affinché il mondo creda. Commento all'Antico Testamento Gli amici e i rivali In politica, negli affari o anche nella vita della Chiesa capita spesso che due persone che sono grandi amiche finiscano poi per rivaleggiare per un certo obiettivo. In questi casi, come dovremmo gestire le tensioni che potrebbero venire a crearsi tra le nostre ambizioni e le nostre amicizie? Davide e Gionata sono molto amici, ma allo stesso tempo entrambi candidati al trono. Hanno tutte le ragioni per essere invidiosi l'uno dell'altro e per odiarsi. Eppure Gionata ama Davide come se stesso. questo tipo di amore comandato da Gesù è l'amore più alto che una persona possa provare per un'altra. Saul invece è pieno di gelosia. La gelosia inizia dal confrontare noi stessi con gli altri confrontando i nostri risultati con i loro. La gelosia ha il potere di privare temporaneamente qualcuno dei propri sensi. quando Gionata fa notare a suo padre Saul che Davide non gli ha fatto alcun torto e gli ha portato grandi benefici e che sarebbe del tutto sbagliato uccidere un uomo innocente Saul risponde per la vita del Signore non morirà. La logica e l'argomentazione ragionevole possono arrivare a convincere anche una persona piena di gelosia in quel momento. Tuttavia la gelosia è potente tanto che quando si impadronisce di una persona come ha fatto con Saul non c'è più modo di fermarla. In Otello Shakespeare ha scritto è il mostro dagli occhi verdi che si fa beffe della carne di cui si nutre. Davide e Gionata si amano. Gionata nutre grande affetto per Davide e parla in favore di Davide. A Davide dice che cosa desideri che io faccia per te. Che grande apertura questa di Gionata nei confronti di un amico. Il loro amore e impegno reciproco assume la forma di un patto che include anche i loro discendenti. E Gionata vuole ancora far giurare Davide perché gli vuole bene e lo ama come se stesso. A causa della sua gelosia invece Saul si adira molto con Gionata. Gionata sa che suo padre intende uccidere Davide. Si alza da tavola con ira feroce. La differenza tra l'ira di Saul e quella di Gionata è che quella di Saul è infondata e dovuta alla gelosia. Quella di Gionata è invece collera giusta. Era attristato per Davide perché suo padre l'aveva offeso. La rabbia non è sempre sbagliata. Per questo siamo chiamati ad esaminare attentamente le nostre emozioni e motivazioni. Davide e Gionata non si vergognano di mostrarsi l'uno per l'altro. Si baciarono e piansero insieme. A volte il pianto è visto come segno di debolezza. I due amici non hanno vergogna di piangere e di mostrare il proprio amore reciproco. La loro amicizia è un esempio potente di amore e unità. Come risposta alla solitudine delle persone Dio ha donato il matrimonio e anche l'amicizia. Sono stati proprio l'amore e l'amicizia che hanno permesso a Gionata di essere totalmente leale, solidale e protettivo nonostante fosse anche egli candidato e rivale al trono. Signore, aiutaci ad essere disposti ad amare i nostri amici e il prossimo come noi stessi. Possano le persone trovare la risposta alla solitudine nell'amore, nell'affetto e nell'unità di una comunità ecclesiale.